Ci saranno noi e ma potete sempre seguirci. Posso막rire un desiderio? Assolutamente sì. Volevano un testo, io tutti voi. No, 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 no. C'è il cammino che non si dettagli a rispetto, per ciò che non si volete pubblicare. Nel fruttento io, davvero, vi ringrazio per essere tantissimi. Anzi, accendiamo le luci qui in T. Vediamo come si vedeva, grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie.